Allora, buongiorno a tutti, sto facendo questo video semplicemente per tranquillizzare la gente e per evitare di continuare a fare alarmismi sbagliati. Allora, sì, partiamo dal presupposto che mio padre è risultato positivo al coronavirus, mio padre non è stato a contatto con me e con nessun altro, tranne con le mie figlie, mia moglie e mia cognata, che sono dallo stesso giorno che, il giorno dopo che lui è arrivato, sono subito andate in quarantena, che stanno aspettando l'esito del tampone che è stato fatto ieri, che stanno bene, e poi mia zia che è con la figlia, dove mio padre ha cenato la sera, il quale sono andato a fare oggi il tampone e aspettano l'esito. Di altri familiari che abitano a Clopani Marina o a qualche altra parte, mio padre non ha avuto nessun contatto, non ha avuto né contatto con la palestra a Clopani Marina, con le mie cugine oppure con i miei zii, non ha avuto contatto con altre persone, faccio una parentesi perché mi è venuto ora in mente, ha mangiato a mezzogiorno all'acquolina, ma sono stati già tutti messi in quarantena, hanno fatto il tampone e stanno aspettando l'esito, per prassi, questo dobbiamo capirlo, questo è stato fatto perché è un obbligo farlo, non è detto che sono contagiosi o che sono stati contagiati. Mi dispiace per l'acquolina che ha dovuto chiudere per colpa di mio padre, ma non si sceglie di avere il coronavirus, ma si ha, si sceglie di avere l'AIDS, perché se io so che tu hai l'AIDS, vengo a un rapporto intimo con te, allora lì ti viene l'AIDS al 100%, oppure non tutte le infezioni urinarie sono dovute perché vado a sedermi su un water sporco, anche perché vado a fare rapporti sessuali non con mio marito ma con qualcun altro che è casualmente, però questo è un affare vostro, visto che state sparlando, perché è giusto parlare del giusto, mio padre è partito dalla Francia, passando prima dal suo medico curante, voglio tranquillizzare tutto, è andato dal suo medico curante, il quale gli ha diagnosticato una bronchite polmonare, e il quale gli ha confermato che poteva partire, mio padre ha chiesto se doveva fare i tamponi, gli è stato riferito, no, non lo devi fare, perché non hai il coronavirus, quindi mio padre giustamente non ha nessuna spiegazione da dare a chiunque perché voleva venire qui in Italia a vedere le nipotine, quindi togliamo questo coso, è partito. Arrivato qui in Calabria, ok? Arrivato il lunedì, il lunedì stesso è andato dal dottor Gallucci a farsi visitare il quale giustamente gli ha detto con tutte le precauzioni, perché il dottore ha le mascherine, la visiera, i guanti, che volete che si metta pure il dottor Gallucci la combinazione vestito e astronauta, come vengono a prendere le persone, non penso. Il dottore ha fatto il suo dovere giusto, l'ha mandato a fare il tampone alla biomedica a Bottricello e è risultato subito positivo. Da lì subito mio padre è andato veloce a casa e ha sempre portato la mascherina, non dite che non ha portato la mascherina, che mio padre si è curca qua la mascherina, è fissato, comunque perché ha dei problemi, ha avuto un infarto sei mesi fa, ha avuto un braccio perforato per il lavoro tre mesi fa, quindi uno ha un po' paura, è diabetico, quindi uno ha un po' paura, quindi sta sempre con la mascherina. Fatto sta che subito abbiamo chiamato le autorità competenti, ho chiamato io, che non volevano venire a prenderlo con l'ambulanza, che dovevo portarlo io, invece l'ho fatto venire a prendere io per forza con l'ambulanza, io non sono stato contagiato perché non ho avuto contatto diretto con lui e poi pure che io, la sera, il pomeriggio, lui ha incontrato le mie figlie e io ho incontrato, o loro hanno incontrato qualcun altro in giro, è stato confermato dal Departimento di Salute di Catanzaro che non hanno potuto fare una contaminazione, perché loro non hanno, pure, se mettete caso, risultano positive, non hanno potuto, come si dice, contagiare un'altra persona perché il virus non era in incubazione. Allora, prima di dire cavolate, di mettere in difficoltà delle attività come la palestra, oppure ho venuto a sapere come mia cugina Mariangela con il negozio di animali, oppure le mie dipendenti che sono ai negozi, non andate a dire cavolate, perché prima si deve accertare e capire come si trasmette il virus, ok? Dopo tutto questo, mio padre, non è colpa sua di aver preso il virus, ok? L'ho già rimproverato io abbastanza e non c'è più bisogno di andare a scrivere le cafonate e cavolate sui social. Oltre a questo, ho già abbastanza pensieri suoi, quindi non posso tutti i giorni rimproverarlo. Dopodiché, ogni Stato sceglie di fare i loro progetti, ogni Stato, l'Italia, Francia, Germania, sceglie loro di fare come hanno fatto il coronavirus. Loro sono i dottori, noi siamo i pazienti, quindi non è colpa del popolo. Partiamo da questo presupposto anche, io vi chiedo soltanto di smettere di dire cavolate, dite la verità, dite che a mio padre non l'avete incontrato, nessuno ha incontrato, addirittura non sapevate nemmeno che era lì, perché è arrivato il lunedì, il martedì già è stato ricoverato, quindi non ha avuto contatti con nessuno. I miei parenti, le mie cugine, non hanno visto nessuno, nessuno ha visto mio padre, nessuno ha potuto contrarre il virus da persone che hanno incontrato mio padre, perché l'incubazione non c'era. Io addirittura non mi hanno messo in quarantena, io sono quattro giorni che non vedo la mia famiglia, mie figlie, mia moglie, non le posso vedere, perché giustamente loro, la prassi che loro devono stare in quarantena, io sono sfrattato, quindi evitiamo di dire cavolate, evitiamo di fare alarmismi che non esistono, evitiamo di dire cose che è stato fatto, perché abbiamo scelto noi di metterci in quarantena, nessuno, siamo stati noi subito a bloccare le cose. Quindi vi ringrazio se capite questo, smettete di dire cavolate sui miei parenti, sulle mie cose, perché qua non stiamo trasmettendo il coronavirus, qua ci stiamo trasmettendo ignoranza, il nostro problema è ignoranza, io parlo per la cittadina di Clopani Marina, perché mio padre è di Clopani Marina, insegna Clopani Marina e mi conoscete tutti, e io non ho pelli sulla lingua, smettete di dire cavolate, mio padre non è stato a contatto con nessuno, addirittura quelli dell'acquolina vi potranno confermare che mio padre è entrato con la mascherina, ha preso da mangiare, si è tolto la mascherina solo per mangiare, e dopo di che se ne è andato alzandosi con la mascherina, quindi smettiamo, smettiamo, stiamo calmi, stiamo buoni, vi ringrazio, e per chi veramente ha cuore, o chi veramente ha cervello, o chi veramente mi conosce, sa che io sono sempre stato una persona che ha aiutato le persone, quindi se volete sapere qualche notizia, me la chiedete a me, di mio padre, di mia figlia, di mia moglie, di mia cognata, di chiunque, me lo chiedete a me, non andate a dire cavolate in giro, e la mascherina si doveva mettere prima, perché tutte queste state siete andati in giro, perché Clopani Marina è stato pieno così, e voi sapevate se qualcuno aveva il coronavirus, quando siete andati in discoteca quest'estate, o sui Lidia a ballare, non avevate paura, quando siete andati a mangiare nei ristoranti affollati, non avevate paura, quando siete andati a passeggiare sul lungomare, non avevate paura, quindi smettiamola, smettiamola, perché ora è finita la stagione estiva, e ora avete paura? La paura c'è sempre, e può colpire a chiunque, quindi smettetela di dire cose che non sono vere, io ho fatto questo video solo per spiegarvi, perché a scrivere poi è difficile capire, capite che è una situazione abbastanza delicata, mio padre può rischiare, come non lo può rischiare, quindi gentilmente smettiamo di dire cavolate, vi ringrazio, a presto.